Ennesimo duro colpo inflitta l'economia reatina ed ennesima azienda che chiude per delocalizzazione. Questa volta è il turno della Replus, azienda degli anni 80, che ha deciso di trasferirsi su suolo americano per sopperire i costi troppo elevati, sostiene Luciano Galimberti, consigliere di amministrazione Tenax. Il prodotto è molto sofisticato e si deteriora se rimane a lungo in viaggio o fermo nei magazzini prima di essere consegnato, con inevitabili costi conseguenti. Per questo la decisione di trasferire la produzione negli Stati Uniti. La Replus ha anche proposto il trasferimento temporaneo di alcuni lavoratori nella sede americana per formare i lavoratori locali, ma i lavoratori reatini hanno tutti rifiutato. Oggi le perdite annuali della Replus ammontano a 35 mila euro l'anno e non sono sostenibili, ha sottolineato l'ingegner Serafini, procuratore della Replus. Ora la questione volta alla tutela dei lavoratori reatini. Walter Filippi della CGL è categorico. C'è necessità di trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze dei lavoratori in questo grave momento per l'economia di Rieti e per questo propongo che la società revochi i licenziamenti, assume i lavoratori e due precari per creare i presupposti di un'azienda con 15 dipendenti, abilitata a richiedere benefici della legge Fornero e prosegue il lavoro per i prossimi mesi e poi all'inizio del 2015 riapre il discorso della chiusura della sede di Rieti.